Io vedo i ragazzi tutti i giorni, li alleno con grandissimo entusiasmo, loro sono carichi quanto me quindi non vediamo l'ora di iniziare questo campionato anche perché l'attesa è stata lunga e vogliamo dimostrare che il lavoro fatto durante tutto questo precampionato, vogliamo dimostrare che la squadra c'è, che possiamo dire la nostra, ma all'inizio del campionato come lo era per la Coppa Italia è logico che non tutto può funzionare alla perfezione, abbiamo lavorato tantissimo in queste settimane, analizzando anche la partita, l'unico test che è stata la Coppa Italia contro una squadra di categoria, quindi sappiamo che dobbiamo migliorare ancora ma siamo pronti. Sì, come ho detto prima, non bisogna sbagliare l'approccio, non lo sbaglieremo perché è fondamentale domani, perché è l'approccio al campionato, non solo alla partita, quindi ripeto, non vediamo l'ora che inizi il campionato per dare dimostrazione della nostra forza. Ma ci sono molte insidie perché non è da sottovalutare assolutamente, hanno vinto il campionato merito l'anno scorso, sono in Lega Pro quanto noi, quindi sicuramente daranno battaglia, ma noi siamo pronti per ogni evenienza, quindi noi oltre al fatto tecnico-tattico dobbiamo essere cattivi tanto quanto loro se non di più.